Allora, dal 19 dicembre sarà nelle sale il nuovo film di Persan Ospitek, La Dea Fortuna e stasera abbiamo con noi tre, i tre protagonisti del film, Jasmine Trinca, Edoardo Leo e Stefano Corsi! Stefano, buonasera, tutto bene? Tutto bene? Eccoci qua, noi non ci siamo visti prima, noi ci salutiamo adesso, ma che belli, guarda! tre grandi attori del nostro cinema a me mette sempre allegria parlare del cinema italiano, ci sediamo, sì, come? come voi, noi eravamo già in barriera, pronti, appoggiandoci, sedendo, come volete, mettete la signora fra di voi fammi stare esterna, mi sento, ti prego vuole stare esterna, perché vuoi stare esterna, vuoi andare via, no, Jasmine, che c'è? lui sceglie sempre anche il corridoio in aereo cioè vuoi scappare, Jasmine? no, sto ancora nel personaggio ah, sto ancora nel personaggio, adesso ne parliamo, ragazzi, però che bello vedervi tutti e tre insieme perché la coppia, loro due, non si vogliono dividere, come capirete dal film, questa è la realtà vedi, 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 perché di questo ora andiamo subito a parlare prima di parlare prima di parlare della Dea Fortuna, il film di Ospitec, del quale siete protagonisti noi, per il piacere, insomma, di avervi qui e perché davvero ci piace celebrare il cinema italiano sempre, abbiamo montato queste immagini mettendo insieme le vostre tre carriere naturalmente, pochi istanti per ciascuno, ma insomma, speriamo che vi faccia cosa gradita prego la vacca boia, c'ho tutto qua, perché sono quello giusto sei scemo, c'ho un fratello scemo da due cazzo di telefono sai che cosa sono? Sono una debole, vulnerabile e bisognosa questo sono ma tutti i laureati bello, quanto mi piacciono queste cose mi piacciono da casa mi piacciono da casa lo posso avere dopo per casa si, te lo regaliamo, te lo duplichiamo questa Marcord, dalle te che erai ormai siamo ma sai perché? Perché al di là del piacere di vederlo perché credo che, insomma, in realtà poi i film per arrivare al film di oggi in realtà ci sono stati tutti gli altri alla fine è un percorso che probabilmente uno si porta dietro involontariamente, no? sì, la cosa curiosa è che in questo percorso che ormai, come avete visto, viene da abbastanza lontano noi tre non abbiamo mai lavorato insieme infatti l'hai detto come e non lavoreremo no no, dalla prima volevamo creare un caso unico beh, però lavorare insieme per la prima volta in un film di Ospectac non è male, insomma no, è fantastico adesso, questo film faccio una cosa molto figliacca ma siccome la trama è molto complicata da spiegare perché a seconda di quello che dico svelo delle cose che non si devono svelare affido a uno degli attori a scelta il racconto della trama ora, normalmente lo fa il più anziano eh, sì non mi guardare perché no, ti guardo perché però ho le spalle Stefano, ci racconti? no, che in questo caso è un gentleman lascerebbe volentieri la parola alla signora assolutamente la signora, a chi vuole lasciare? vi prego il più anziano sono io dai, alla fine finisce così sempre tanto quello era va bene, diciamo così che c'è una coppia che siete voi due una coppia gay per l'appunto voi due ehm in crisi per motivi tanti motivi insomma a un certo punto in questa in questa crisi di coppia arriva si presenta a casa una una vostra amica non qualunque l'amica in realtà la donna che vi ha fatto conoscere quindi in realtà siete entrambi legati moltissimo a lei e vi dice che deve affidarvi i suoi figli i suoi figli lei è una donna è una mamma singola il papà non c'è quindi vi deve lasciare i suoi figli perché lei deve fare degli accertamenti quindi vi lascia i figli e voi vi trovate improvvisamente con due bambini esatto dovrebbero essere pochi giorni in realtà questi accertamenti prendono più tempo del previsto e noi ci troviamo a dover condividere la la vita un pezzo una parte della nostra vita con questi bambini insomma da che non eravamo assolutamente abituati ecco e oltre a noi ci sono tutta una serie di amici intorno che sono diciamo questa sorta di un gruppo una famiglia come dice sempre Ferza la famiglia è quella che ci scegliamo e solo che questi due bambini entrando nella vita di questi due uomini che hanno un rapporto da 15 anni che comincia ad essere piuttosto precario squilibrono completamente la situazione ma di tutto e quindi da qui è come se fosse un nuovo inizio narrativo da qua diventa difficile raccontare altre cose perché certo è un film sull'amore però possiamo dire è un film con molta tenerezza si capisce che l'unica medicina poi in realtà che uno cerca è quella dell'amore cioè imparare ad amare il rapporto fra genitori e figli il rapporto tuo con tua madre nel film insomma un amore che manca da sempre che viene cercato per sempre ma io mostrerei Edoardo prima di tutto il momento in cui appunto arriva arriva Anna Maria Jasmine per l'appunto nella nostra casa prego andiamo durante una festa Ginevra Filippo l'hai già conosciuto no? Arturo guarda un po' chi c'è no ma dai ma che sorpresa ciao ciao come stai? ciao bene ciao 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 ma bambini ma siete diventati grandissimi ma tu mi sa che non li conosci loro? lui non l'ho mai visto ma lei l'ho vista quando era piccolina così l'estezacane mattina no perché c'ha una fase diciamo aggressiva ma no perché ti nascondi così? mi sto nascondendo signora mi cerro di conoscerla che c'è? ha una fase opposta lui da lei a chiunque incontri già lo amo no ma sembra timido poi vedrete col tempo lui si chiama Alessandro io lo chiamo Sandro anche se non gli piace però vabbè in questa casa c'è un altro Alessandro sì c'è un altro Alessandro lei è Anna Maria quella storica l'avrete sentita mille volte questa storia quella che mi ha presentato Arturo è vero meglio meglio non sapere come ma li ho presentati una cosa come 15 anni fa 15 e mezzo e non mi hanno fatto ancora causa Edoardo tu che cosa fai che il tuo ruolo nel film che lavoro fai? faccio l'idraulico no perché questa è l'ulteriore insomma particolarità di questa coppia nel senso che in questa crisi c'entra anche il fatto che io faccio un mestiere che tra l'altro mi piace moltissimo che fare l'idraulico è un mestiere che ci consente di vivere anche abbastanza bene mentre lui fa l'intellettuale lo scrittore il traduttore però non riesce tantissimo a portare i soldi a casa l'aspetto pratico l'aspetto pratico e la cosa interessante è come proprio questa è la scena in cui arrivano i bambini a casa e questa coppia che sta continuamente litigando da sempre si rinfacciano qualsiasi cosa si rendono conto che improvvisamente la presenza in casa dei due bambini sposta tutto non possono dirsi le cose che si dicevano quando litigavano da soli non possono dirsi la quantità di cattiveri di varolacce che dicevano e soprattutto cominciano a spostare lo sguardo da così a così verso dei bambini e uno scopre dell'altro cose che non sapeva lui scopre che ho un istinto paterno incredibile che non sospettava e questa cosa riaccende qualcosa tra di loro che sembrava davvero sepolto il tuo personaggio invece è molto molto complesso beh è questa famosa Anna Maria che irrompe dal passato nella loro vita in casa loro portandosi appresso qualche bagaglio tutta una sciamannata si porta dietro questi due bambini una madre incapace di amare una madre diciamo così fuori norma la qualcosa ci piace moltissimo quindi raccontare un'umanità che non è soltanto quella che ci viene in qualche modo proposta quindi è una madre che si sente in questo momento di lasciare i propri figli dovendo scegliere l'unica diciamo le uniche persone si dà proprio un primato all'affettività all'affettività all'amore cioè dove la biologia c'entra poco e il cuore invece tanto e quindi lei pensa veramente di lasciare per qualche tempo i suoi figli alle persone più care cioè è un figlio che mette diciamo appunto in discussione tutte le convenzioni sociali tutte le dittascalie e tutte le definizioni se vogliamo ancora pensare a delle convenzioni sì beh ci sono cioè l'amore esiste esiste in tutte le sue forme quindi siccome esiste e resiste fortunatamente noi lo raccontiamo ma soprattutto Ferzan lo racconta lui è veramente capace di rendere poi sentimenti così personali anche universali posso dire posso dire una cosa rispetto alle convenzioni appunto che c'è una scena secondo me quando appunto Edoardo diceva il fatto di non poter litigare davanti ai bambini c'è una scena nella quale noi litighiamo non pensando che nell'altra stanza di fianco ci sono i bambini che sentono questo fa sì che i bambini comincino a litigare a loro volta e noi ci troviamo a separarli e secondo me quella scena lì è a me quando ho visto il film mi ha mi ha molto chiamato in causa come genitore io credo che la grandezza del modo di lavorare di Ferzan è che tu vedi quello che guardi lo puoi interpretare da qualunque tipo di essere umano persona sessualità tu abbia perché parla veramente al cuore delle persone cioè io in quella scena l'ho guardato e ho pensato sono genitore e mi faccio delle domande del genitore cioè non devi litigare davanti ai bambini se non fossi genitore imparerei che non si deve litigare davanti ai bambini grazie anche a questa scena e quindi devo dire che questo è difficile forse da spiegare a parole è molto più semplice quando uno vede il film Stefano in confronto tra questo film e le fatte ignoranti a te già chiederlo per forza ma guarda come si fa a dire difficile ecco questa foto di gruppo che c'era qua dietro racconta secondo me bene un po' l'idea di questa famiglia che noi siamo una coppia ma abbiamo una serie di amici di relazioni di relazioni tra l'altro una cosa ti dirò una cosa che non c'entra con le trame Ferzan quando giri film assedia i quartieri nel senso che noi qua giravamo in un quartiere c'erano tre appartamenti nelle stesse case giù avevamo due negozi di alcuni di questi personaggi il supermercato era quello di fronte la stessa cosa per le fatte ignoranti c'era quella zona del gasometro era veramente tutto lì e questo perché in un qualche modo sono film che ti calano veramente in una sorta di un pezzo di vita e credo che questo è quello che poi si percepisce quando si vedono i film questo è il grande denominatore comune secondo me dei film allora Edoardo prima parlava Stefano dei vostri litigi devo dire veramente vale la pena proprio di vederli nel senso che è proprio molto divertenti come ti sei trovato tu bene io bene benissimo allora ma andiamo a litigare con il corsino a litigare con il corsino no è difficile perché Stefano è ovviamente un compagno di lavoro splendido dai che si vogliono bene vediamo questa scena vai 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 la mia fortuna è proprio curioso di capire come te lo sei intortato eh guarda mi sembra di vederti mi sembra di vederti no sai dopo tanti anni insieme ma il sesso non c'è più e e ognuno è libero di fare ciò che vuole eh siamo come come fratelli no forse i fratelli è troppo gli avrei detto tipo gli avrei detto eh no sai c'è complicità per carità sai però siamo siamo come amici un po' più di amici siamo come come che ma che siamo io terzo dai dai e non fa sta cosa vediamo che ti inventi mamma mia ti sei sciolta la lingua eh erano secoli che non parlavi così tanto con me le corva ti fanno bene lo sai dai 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 dammela dammela dai dammela sei proprio un bambino sai Martina Sandro hai lasciato i bambini da soli no hai lasciato i bambini da soli sì sì lasciato i bambini da soli scemo sei ed ecco che appunto lo sguardo si sposta dal se stessi no no questo è uno questo litigio qua è l'emblema di quello che dicevamo prima puoi stare a litigare ma c'è qualcosa di superiore a tutti i litigi che puoi fare a un certo punto c'è la sopravvivenza dei ragazzini conta più di qualsiasi altra ripicca di puoi fare puoi stare anche in un momento con cui noi stiamo parlando di cose fondamentali stiamo finalmente tirando fuori quello che non ci diciamo da 15 anni ma nonostante questo se si perdono i bambini c'è qualcosa di più importante di più grave di pratico tra l'altro la locandina è perfetta spiega benissimo il film La Dea Fortuna al cinema dal 19 dicembre l'ultimo film di Ferzan Ospita che io ringrazio tantissimo Stefano Corsi grazie a te Edoardo Leo e Jasmine Trinca tantissimo Jasmine questi fiori sono per te come nostra abitudine grazie 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 di cuore grazie soltateci Ferza grazie di cuore grazie davvero complimenti complimenti sempre ciao Edoardo grazie grazie Stefano a presto grazie grazie Stefano Corsi Edoardo Leo e Jasmine Trinca